Giornata della memoria, oggi all'Istituto Giovanni Verga di Gela. Gli alunni hanno animato la ricorrenza attraverso video, testimonianze, cori, letture espressive e brevi drammatizzazioni che hanno stimolato la riflessione ed il ricordo. Preziosi gli interventi della professoressa Lino Orlando e della scrittrice Giuliana Frajica che per l'occasione ha intonato il testo di una canzone di autoproduzione sull'Olocausto. Sono felice di dare il mio contributo, di vedere i ragazzi e poter dire la mia. Infatti per l'occasione, per questa giornata della memoria che mai si deve dimenticare ho scritto una canzone, una canzone per ricordare questo giorno infatti dove si parla di due bambini che vengono portati in questo treno insieme agli altri e poi si devono dire addio. Quindi è un attema e quindi proprio perché è anche io che scrivo e che canto possa insieme a loro insieme a voi ricordare questo giorno. Vogliamo rappresentare la giornata della memoria che ricorda appunto i deportati dei campi di sterminio ad Auschwitz degli ebrei. Questo genocidio non si dovrebbe ripetere mai più e è per questo che noi ricordiamo. Speriamo che il nostro spettacolo faccia riflettere a molte persone, gli spettatori. Il dirigente scolastico Viviana Aldisio. Abbiamo il dovere di non trascurare questa giornata, molto importante. La memoria dovrebbe diventare il corredo, io dico, genetico di ciascuno di noi. È importante. Noi siamo abilitati a curare il processo di crescita di questi ragazzi ma chi perde la memoria non ha la via di accesso a diventare adulto. Quindi oggi uno sguardo alla storia, una riflessione sulla storia che purtroppo rispetto anche al contesto che stiamo vivendo in questo momento appunto si rifà e ci riporta a tanto presente doloroso e affliggente. Oltre agli insegnanti della scuola secondaria di primo grado che ancora una volta mettono in atto è stata una didattica laboratoriale facendo svolgere il ruolo da protagonisti agli alunni. In realtà abbiamo sempre e ci avvaliamo della, dico io, consulenza specialistica di professionalità esperte ed esterne, esterne alla scuola ma esperte del territorio rispetto ai temi che trattiamo. Ringrazio la Giuliana Fraglica che è sempre qui molto cara insieme a noi a fare squadra con noi e non in seconda ma piuttosto in ordine, dico io, di importanza e di supporto alla didattica che è chiaramente una ricchezza in più, un valore aggiunto alla scuola, alla professoressa Lina Orlando.